si va agli ordini dello starter sono partiti in questo momento l'Ieratico dall'esterno prova a andare in vantaggio su Knocker Nobles che precede Jan Puga davanti alle tribune all'esterno Subadar 1-3-10 le prime tre posizioni Quinta e Cardamini Sesta e City Napoli con Gorgias Cadot non brillante in curva in corda c'è anche Beat of Chocolate Ieratico, Knocker Nobles all'attacco della letta di fronte Ieratico e Knocker Nobles due outsider in vantaggio Subadar è terzo all'esterno Jan Puga segue quarto in corda 1-3-10-4 tradotto in numeri Beat of Chocolate segue Jan Puga avendo all'esterno Cardamini poi il verde e il giallo di City Napoli Nicola Pinna Subadar muove in terza va sul Knocker Nobles lo sospinge su Ieratico Jan Puga aspetta gli eventi con Cardamini e Beat of Chocolate City Napoli con Ieratico montato per respingere il Knocker Nobles pedinato come un'ombra da Jan Puga e da Beat of Chocolate vediamo la scelta delle corsie va di dentro Beat of Chocolate invece Jan Puga si lascia tagliare fuori e va a diritto tamponando sulla curva e allora scappa via Beat of Chocolate in seguito da City Napoli Jan Puga che si riorganizza ma Beat of Chocolate ha preso due di margine a City Napoli Jan Puga gli altri in difficoltà almeno a metà retta con City Napoli che prova a andare su Beat of Chocolate poi Jan Puga nel finale Beat of Chocolate City Napoli Jan Puga 5-2-4-8 l'ordine d'arrivo la vittoria di Beat of Chocolate che ha trovato un'autostrada all'interno sulla curva dove in diversi hanno patito le traiettorie poco geometriche di quelli davanti e a quel punto fuga per la vittoria hanno provato in seguimento gli altri due favoriti City Napoli Jan Puga che ha trovato in seguito Grazie a tutti.